Più entriamo in confidenza più diventa una serata di balotta e quando abbiamo tiramento di culo facciamo un video Ciao a tutti amici di Vapersport Buonasera In questo video vi parliamo di un aroma della Twisted veramente sluposissimo Sì, vi parliamo della Schichtpauze Questo è in tedesca Sì, è molto bello Un viz Sì, è molto bello È molto bello Detto questo, cosa dovrebbe essere? Allora, questo aroma è un biscotto alla marmellata No, direi in tedesco Non mi ricordo come si dice il biscotto È un biscotto con marmellata di frago Quanto l'hai caricato? È fatto al 16% su base 70-30 Ed è in maturazione dal 10 di febbraio Loro raccomandano 3,7-12 Noi siamo dei soliti maiali sicuramente Infatti lo proveremo sul coniglio morto Con un 3 core fused klepto in full necrom 0,22 Finale Good L'odore ragazzi intanto spacca veramente Cioè, anche dall'odore si percepisce proprio che è marmellata Non è odore di fragole L'odore è di marmellata di fragole Vero o no? Infatti L'ho già seccata a metà Ma come mai? Allora, forse il setup, forse l'atom Ma? Però nella svapata è molto più biscottoso che marmellatoso Però a me piace C'è qualche nota alcolica che comunque sento spesso e volentieri un po' negli aromi L'hai lasciato 10 ore aperto Si Però no, Ez Più che qualche nota, questo è proprio un drink, cazzo È vero Però è più biscottoso allo svapo che Ce l'hai ben amalgamato Dico la verità Non è male, però a me non piace No? Non mi piace Cioè la parte biscottosa spacca Però c'è troppo alcolico per i miei gusti Più che qualche nota è proprio alcolico Ah no, infatti quello si Marmellata di brutto nell'odore Questo setup non sente un ca' Particolare il biscotto spacca Marmellata non sa di niente Molto alcolico A me non piace Peccato perché la parte biscottosa è È molto buona È proprio biscotto frollo Io l'ho lasciato, sì, non dico una decina di ore Però tipo almeno una mezza giornata aperto Però non è andato via questo alcolico Se no sarebbe veramente un liquido della madonna Anche come come Peccato Peccato che comunque si sente un po' Quindi è promosso Il 50% Se voi riuscite a fargli andare via l'alcol Bello Diventa un liquido della madonna Io ancora non ci sono riuscito Il video è terminato Se vi è piaciuto mettete un bel Mi piace questo Iscrivetevi al nostro canale YouTube E se siete su Facebook Mettete un bel mi piace La nostra pagina Facebook Vapers4Passion Mi piace il video Condividetelo everywhere Io sono Cato Io sono Miles La prossima gentile c'è C'era 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 Da me pepiva E da mazza a metà Che sembrava Il set è così Il set è così Il tavolo era così C'è Un angolo ottuso Ma già bastiamo noi di ottusi Pure anche l'angolo no Ma già bastione Ma già bastione Mi piace il carbone